Già prima dell'inaugurazione qui sul lungomare sud di Pescara, all'incrocio con via Vespucci, gente che si soffermava per questa fontana di Natia Acqua, da non sia la memoria. Sì, ma è un elemento che in qualche modo arreda questo dato di diviera, ma anche di forte utilità, perché credo che sia a disposizione di tutti i cittadini, sarà molto utile in questo periodo, ma soprattutto d'estate, quindi un primo elemento realizzato dal Rotary Club di Pescara che accogliamo con grande favore, perché oltre ad essere molto utile, è anche architettonicamente ben realizzato. Il Rotary è un'associazione da sempre presente nel territorio. Noi abbiamo, con un programma triennale iniziato nel 2010 con la past president Manuela Corneli, era l'anno dedicato all'acqua nel Rotary, per cui abbiamo deciso di donare questa fontana che erogherà acqua liscia e acqua gasata ai cittadini di Pescara gratuitamente per quanto riguarda l'acqua liscia. L'acqua gasata ha un costo minimo di 5 centesimi al litro, ma oltre questo è importante il fatto che ridurremo, sicuramente o speriamo di ridurre il consumo della plastica, perché i cittadini verranno qui con le vecchie bottiglie di acqua di vetro e potranno rifornirsi di acqua gratuitamente. Grazie.